Nooo, è nuovo lui! Tommy! Nooo, Tommy! Torna nella tua stanza, Tommy! Che entrava nella camera della mamma e che lui cresceva durante la notte, gli allungava, no? Entrava dalla mamma e la succhiava, le succhiava il midollo! Madonna, Tommy, che sei un porco! Adesso, però, sicuramente i nostri amici... Che è sto secchio di sg... E più e più in HD di quell'altro, questo continuo, ragazzi, ma noi l'abbiamo chiesto. Perché da quando la mamma è stata rapita da Tommy, noi non abbiamo dormito! Vi ricordate l'ultimo episodio? Eh, se non l'avete visto, andatevelo a vedere, mamma mia! E infatti chiedevamoci sempre, tutti i giorni, dove sarà Tommy che ha rapito la mamma e se la vuole mangiare. Ed eccola qua, sta bagnando la schia... sta succhiando la schia... Mamma mia, che brutto! Che brutto! E loro continuano a voler dormire nella sua stanza! Nella stanza di Candazia che... Si sta scomparendo al forza di succhia... Oh mio mio Dio! Ma ci sta spoilerando tutto il video! Ah, Doris, la nostra informacitrice, ci dice che Candazia e Tommy vivono di nuovo in una nuova casa e Tommy fa ancora male alla mamma! E di nuovo esce dalla stanza come un... un mariuolo! E terrorizza tutti! E i vicini hanno pure registrato un video di Tommy! E l'hanno messo su YouTube! Guarda che... che dov'è? Si... 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 si ingrippano gli alberi! Tommy! Bru... tirategli qualcosa... Mamma mia, quanto è brutto! Tommy, tua mamma è qui! È venuto a prenderti! Eh? Ha bisogno di aiuto! Mila, mamma ha bisogno di aiuto! Mamma mia, vieni vicino, Tommy! Ti avrei dato una vanga! Mamma mia, quanto sei brutto! Oh! Andai via! Corri! Oh! Brutto c'è, sotturato! Candazia non se ne andrà! Non mollerà mai suo figlio! Ma il suo corpo non può sopportare più questa situazione! Ok? Doris, la nostra informatrice, ci dice che Candazia non ha più molto tempo prima di morire! Porca mia, e noi non possiamo andarcene questa volta! Eh! Cosa che già dovevate fare la volta scorsa! Perché avevate detto... Eh, noi non ce ne andiamo finché Candazia non sta bene! E poi ve ne siete andati! FIFONI! Merda! A quel paese! Eh? Perché vuoi tornare a casa di queste persone? Tommy è violento! Dobbiamo salvarla! Povera Candaz! Cosa facciamo? La lasciamo lì con quel mostro! Che se la succhia durante la notte! Ma non siamo pazzi! Eh? La nostra informatrice, Doria, ha detto che la prossima volta la troveremo morta, Candazia! Se non agiamo adesso! Avete capito? Bisogna fare qualcosa! Oh! Andiamo a cercare a casa! No! Dobbiamo entrare! Dobbiamo entrare! Dobbiamo andare! Oh! Hai capito? Cioè uno dei due è un fifone pusillanime! L'altro è un duro invece, riconosco me stesso in quello pusillanime però, perché non sarei andato molto! Ma ormai siamo in viaggio, che fai? Torni indietro? È buio poi, è pauroso! Quello ha gli occhiali da sole di notte! Ma sei uno scemo! Sei uno scellerato! Arriva... Ecco casa di Tommy! Vuoi davvero entrare, fratello? Sì, andiamo! Ok, adesso iniziamo a cagarci a dole! Perché mo facciamo gli spacconi, no? A ridere! Oh! Grande risa! Oh! Oh! Ma adesso inizia a peggiorare! 9.54 della sera! Andiamo a bussare alla porta di Candazia! Tutta scassata sta casa! Ma me è un poverino! Non avrà mica... Come fai a chiamare il fabbro se ti si rompe qualcosa? Che c'è quello... Quel brutto cesso che... Candazia? Mi ma come ti sei invecchiata! Sei la sorella di Candazia, Doris! Sì! Ah, è la sorella di Candazia! Grazie per averci permesso di entrare! Adesso documenteremo! Perché vi ricordo, anche questo video si svolge un po' come a Men Observation Duty! Quindi è tutto riprese di telecamere e di sorveglianza! Però lei non sta bene! Ci informa, Doris! Candazia non sta bene! Cercheremo di non stressarla, signora! Stia tranquilla! Faremo solo il vostro bene! Ti ho avvertito, comunque! Come la ritroveremo? Messa malissimo! Ebbene, è costretta a vivere con questo figlio mostruoso che di notte cresce! Va nella sua camera! Allunga la lingua! Le succhie al midollo spinale per nutrirsi! Una schifezza di storia! Mio Dio! Ma fate qualcosa! È qui dentro! Ok, andiamo a vedere ragazzi! Aspettiamoci il peggio perché secondo me sta messa male! Eh, la vedo proprio già, sento che... Eh, guarda, me l'immaginavo, eh! Eh, me l'immaginavo! È ridotta proprio uno straccio! Candazia, stai bene? Cosa ti è successo? Eh, per forza quello si attacca a succhiare il midollo! Niente! Sto bene! Non stai bene! Cosa è successo ai tuoi capelli? E perché non cammini più? Ti affiduo il figlio maledetto! Ti ha fatto ciò? Eh? Oh! Dai, di nuovo lui! Guarda, brutto cretino, imbecino! Guarda, davanti è brutto! Ma, ma, e va in giro tutta... Eeeh! Vai in camera tua! Ehi! Eh, che bravo ragazzo, Tommy! Ma che stai a dire? Vai in camera tua, Tommy! Cioè, glielo deve chiedere per favore di andare in camera sua, capito? Ma guarda, brutto schifo, otturato, che non sei altro un foruncoloso! Ah, Candazia, ascolta, basta! Non puoi fare così! Non so se tuo figlio ti ha fatto questo, ma adesso ti dobbiamo aiutare, Candazia! Ti dobbiamo aiutare con Tommy! Oh, lui è un bravo ragazzo! Ma che dici? Ti zucchia! Andremo noi a parlare con tuo figlio velocemente! Dai, andiamo! Andiamo coraggiosi, dai, duri, eh! Dei veri duri, adesso andiamo a parlarci! Guarda com'è la ridota! Quel, ma, guarda! Brutto cretino schifoso! Guarda, anche la casa! È tutta... Tutta con le tende coperte! Per forza, perché se la gente vede quel coso, spara da fuori! Poi mica sopportare! Tommy, stiamo entrando, eh! Dobbiamo fare un chit-chat a due, perché basta! Cos'è quel rumore? Cosa sta facendo? Eh, ti fai di nuovo le... Tommy! Ehi! Sto entrando, non farti vedere in situazioni compromettenti, eh! Mica è brutto, sembri un dito peloso! Oh, che sta a fa' Eh, come te l'aspettavi, scusa? È flaccido! Tommy! Il tuo modo in cui ti comporti non va affatto bene, ok? Noi... Hai mancato di rispetto a tua madre? Ha mancato di rispetto! La vuole ammazzare, ma che stai a dire? Eh, vuoi indossare la sua pelle? Come un maglione! Ma lui ci ha risposto! Cosa ha detto? Eh, vuole indossare la pelle della madre come un maglione, ha detto! Oh! Mi, quanto è brutto! Mamma mia! Eh, Tommy! Basta! Eh? Se no porteremo via tua madre e ti lasceremo da solo! Ma sparategli, no? Cioè, non è mica umano! È una robaccia! No? Cioè, adesso sì che si comporterà... Ma se, ma davvero? Sei scemo? Ma che cosa doveva succedere? Bruto idiota! Ma che fa... Ti ha preso! Bro! Bro! Fai qualcosa! Oh! Ma l'ha tirato dentro? Ah, no, meno male! Fratello, sei bene! Ma sei un cretino! Ma secondo te bastava parlarci! Dobbiamo dire a Candazia che basta! Cioè, è arrivato il momento di terminare tutta questa situazione! Bisogna chiamare la polizia una volta per tutte! Candazia? Che chi è che piange? Penso che sia qui! È Candazia! Starà piangendo perché si è resa conto che vi ha messo in pericolo con quel brutto... No, che schifo! Ma io non voglio vedere! Sta a fare il bagno! Sta a fare il bagno al mostro! Marzia! Ah, ma questa è l'altra! Oh, ferma tutto! Interrompete! Questa è la sorella, eh! Dori! Quella dei pesci! Eh? Che sta lavando il... 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 Il coso! Perché? No, stai tranquillo! Gliel'hai lasciato fare tu! Ma che lo sta consolando? Oh! Ma gli hanno sparato! Cos'è successo? C'è tipo dei buchi! Secondo me gli hanno sparato, ragazzi! Cos'è successo alla schiena di quello? Sta succedendo qualcosa di terribile! Lei ha dei segni bianchi su tutta la pelle! Cosa significa? Eh? Tommy probabilmente le ha fatto qualcosa di terribile! Pure a lei! Dobbiamo chiedere di sistemare le telecamere! Va bene! Facciamolo di nascosto! Secondo me è meglio! Perché qui non si sa di chi potersi fidare! Metti che anche la sorella di Candazia è pazza, eh! È passato un po'! Ora inizieremo a sistemare le telecamere! Bravo! Fai quello che devi fare! Bravo! Eh! Ottimo! Dove l'hai appoggiata? Che posti! Che tattica! Bravo! Sì! Ottimo! Sì! Sì! Tanto quello è alto, capito? Quello si vede bene così, eh! Ora andiamo a mettere una telecamere nella stanza di Candazia! Mamma mia! Lì è dove si verificano le peggio cose! Povera donna! Povera donna! Eh! Una corda! Cos'hai visto? Si lega la porta alla notte per non far entrare su Babou! Eh! Ma non serve a niente! Candazia! Possiamo entrare? Cos'è stato? Cos'è stato? Cos'è stato? Cos'è stato? No! Anche di giorno! Eh! Basta! Non è possibile! Ma che dieta fai? Cosa stava... Tirateli qualcosa! La stanno divorando! Eh! Tira qualcosa! Tira qualcosa! Fai qualcosa! Ti si ciuccia! Tira! Tira gli... Oh! Guarda che schifo! Sembra che c'ha la cravata di lingua! Che schifo! Mio Dio! Andiamo a dire a Doris! Ma cosa andiamo a dire a Doris? Lo saprà no? Che succedono queste vicende! Che schifo! Mio Dio! Mio Dio! Mio Dio! Eh! Perché indossi una giacca? Te ne stai andando? Ah! Non dormo in questa casa! Come non dormo? Non contommi qui! Ma... C'hai anche ragione! Eh! Però noi vogliamo parlare con lui! Abbiamo visto sua madre! Sembrava che stesse succhiando di nuovo il liquido spinale! Ah! Sì! Lei glielo lascia fare! Oh! Glielo lascia fare! Beh! Si era capito che lei è più scema di lui! Ah sì! Sta andando avanti da molto tempo! Ah! Ascolta! Devi incontrarci qui domattina per rivedere i filmati! Ok? Perché ormai Candazia non è più in grado! Cioè! Quella è... Ora me ne devo andare! Fai bene! Fai veramente bene! Io non sarei stato lì neanche durante il giorno! Cioè la madre glielo lascia fare ragazzi! Ma avete capito? La mamma glielo lascia per farlo nutrire! E su! Schifo! Mio! Perché nemmeno sua sorella vuole dormire qui! Eh! Ma noi! Noi sì! Come fai a non sentirti in colpa per Candazia? Dobbiamo salvarla! Ma Tommy! Sta succhiando via la vita a lei! Hai capito? Non possiamo andare via! Quell'altro vuole andare via eh ragazzi! Vuole vedere un cacassotto! Un fifone! Eh! Ma neanche Doris ha detto che se vuole... Non ci interessa! Tommy si è comportato anche peggio di così! Dobbiamo vedere cosa ha fatto! Però dopo che vedete cosa ha fatto dovete anche agire! Non come l'altra volta che non avete fatto niente! E tu cavati gli occhiali del sole! Pirlus! Eh dai! Oh! Siamo andati a dormire! Meno male! Dai! Allora si dorme! Adesso domani mattina si vedrà! Che cosa succede? Ah! Attenzione però! Qualcosa durante la notte! Mezzanotte e mezza cosa succede? Non mi dire che entra il babou! Eh? Si aggira? Non lo sento! Secondo me stanotte non esce! Magari si sente... Guarda quella là come l'ha ridotta! Come l'ha ridotta! Un disastro! Brutto schifoso! Guarda! Guarda! Mamma mia come mi da! Brutto cretino! Scemo! Schifoso! Disgraziato! Immane! Eh? E poi passa il tempo e si sta a fare schifoso imbecille! Eh? Cosa vibri? Ti smonto il letto a calcino! Schifezza! Guarda! Marda! Eh! Sparite le coperte! Mamma mia! Eh! S'ha allungato! Che brutto che è! Puu! Puu! E adesso parte eh! Perché dopo che deve... Si allunga! Dopo che si allunga lui ha fame! Quindi adesso entrerà qua! Sicuro! Eh! Guarda! Ma guarda! Quanto è brutto! Quanto è brutto! Quanto è brutto! Quanto può essere brutto! Guardalo là! Un cavallo! È un cavallo! È un cavallo lungo! Che brutto! E mo' esce dalla finestra! Non mi diva la caccia dei vicini pure! Potrebbe essere! Per quello gli hanno sparato alla schiena! Hanno fatto bene! Hanno fatto bene! Dovano sparargli di più! Così non tornava! Ma guarda! Guarda! È davvero! Sta andando a caccia eh! Con quelle braccine lunghine lunghine! Ma eh! Guardalo! È l'ordo! Quello con il dito in bocca! Mamma mia! Scurre già capre! Che non sei altro! Non è che entra dalla finestra adesso nella camera della mamma! E sarà andato! Deve essere andato per forza a magnà però eh! Avrà trovato qualche casa che tengono le finestre aperte! Si infila come un zanzaro! E è rientrato! Vedi? Che schifo di cosa che sei! Mamma mia! È orribile eh! È proprio brutto! Vedi che fa paura! Fa proprio schifo! E adesso chissà! Guarda! Cos'ha preso? Cos'ha? Cos'è quello? Che ha preso? Un cane? Uno scogliatolo? Aveva uno scogliatolo morto in mano! Ma poi quanto è diventato più brutto anche dell'altra volta eh! Secondo me non gli basta lo scogliatolo! Ma che è? Una busta! Guarda! Guarda! È una busta! Ci ha messo dentro qualche gatto! Mio Dio! Tommy! Ma sei un schifo! Inmane sei! Sei inguardabile sei! Che sta a fa? Te lo stai mangiando? Eh! Vi ricordate il secchio? Dove lui teneva tutto quel liquido nero? Lì è dove si mangia le schifezze che prende! Ma almeno... Oh! Almeno non si è andato a magnare la mamma! Secondo me ci va! Perché adesso si è mangiato quello scogliatolo che aveva preso però... Guarda! 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 Si sgabbia! Si pulisce la bocca! Che ha mangiato! Però non gli basta! C'ha ancora fame! E adesso gli viene in mente cosa posso mangiare? C'è la mamma nella porta accanto! E guarda come si infiltra! Che la mamma gli ha anche fatto i pantaloni lunghi! Vi rendete conto sta donna povera matta! Gli ha fatto i pantaloni capito? Tutti allungati per stare appresso alle sue crescite da matto! Eh! Anche loro! Perché non gli hanno barricato la porta? L'altra volta l'avevano fatto con la sedia, no? Cioè la stessa casa! E questo è ancora più sgabbiato di prima! E mamma mia! È così brutto! E mamma mia! Non ti avvicinare! Uh! Eccola là! Ale! Vai! Andato al ristorante! No eh! Fate qualcosa! Fate salve! Andate! No! Siete qui apposta! Guarda! 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 Ma fa la breakdance poi! Mamma mia! No! 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 E ci siamo appena svegliati! E buongiorno e buonasera! Doris! E ci abbiamo fatta! E come abbiamo discusso adesso vieni che guardiamo il filmato! Quelli trovano morta mo' a Candazia! No! Io mi è ridotta ancora peggio però! Porina! Mamma mia! Che disastro! Ma come si fa? Io dico! Ma come si fa? Sembra pesi! Guarda! È un corpo ormai! È un corpo! È un corpo senza anima ormai! È morta! È morta! E guardate voi! Guardate! Guardate! Vedete! Guarda! Va in giro! Eh! Va in giro! Quando torna poi! Con la busta! Eh! Con la pappa! Eh! Sta portando qualcosa! Eh! Cosa ha preso Candazia? Eh! Non lo voglio sapere! È colpa tua! Che lo fai mangiare! Eh! Sta masticando qualcosa! Cosa starà mangiando? Mangaggio! E mo' guarda cosa fa! Un corridoio! Nella tua stanza! A tira fuori i guancagnao! Eh! Lo so! Lo so! Eh! Ma perché mi lasci fare? È un mostro! È un mostro! Lo devi fermare! Dobbiamo andare via! Oh! Brava Doria! Diglielo! Non posso! Portatela via di forza! Non può stare lì! Ti sta facendo male! Dice il giusto Candazia! Non puoi rimanere qui! Non ti resta molto tempo! Morirai! Ti sta risucchiando! Non posso andarmene e lasciare mio figlio! Non è tuo figlio! Quel babbou! Non fare così! Te ne devi andare! Dobbiamo andare nella stanza dei tommi per vedere cosa stava mangiando! E cosa sta mangiando? Un gatto! Un gatto! Riposa tutto il tempo! Riposa tutto il tempo! L'avrei messo! Questo non lavora! Ecco perché fa così! Che va in giro di notte! È un debosciato! Non va a lavorare! Non ha voglia di lavorare! Questo qua! Cretino rincretinito rimbecillito scansafatiche sanguisuga! Guarda che schifo! Ma io sono allibito! Avrei detto i piedi! Ma non c'è! Cos'è questa puzza di carne? Cos'è? Cos'è? È la preda di ieri sera! Noi vai a vedere nella busta e vedrai cosa c'è! Ora scappa dalla finestra! Non è che è sotto il letto no? Occhio! Nell'armadio! Guardalo che è lì nell'armadio tipo Dracula! Non fare jumpscare eh! Ehi! Cos'è che c'ha? I collari degli animali che si è magnato! Lo sapevo io! Mamma mia! Cosa hai trovato? Eh non lo so! Lo so io! Ma guarda che schifo! Cos'è so ste pezzi? Che schifo! Se muoveva tutto! Cristo che schifo! Ma è una cosa che parla! Il secchio parla! Ma sta diventando un po' strana sta cosa eh! Aiuto! 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 Chiudiamogli la finestra prima di tornare! Eh! Non fatelo entrare più no? Bra! Oh! La prima idea intelligente! Chiudiamolo fuori! Sei stato sfrattato! Ok? Non entri più! Eh! Eh! Pe pe peo! Eh! Non entri più adesso! Undici di sera non è più tornata a casa! Ma dov'è che va? Eh! Non lo fa rientrare eh! Modi bisogna parlare con la mamma perché quella lo fa rientrare a casa! Eh no! Come ti senti? Ehi! Questa è andata peggio di stamattina! Penso che stia per morire! Eccola! Siamo arrivati troppo tardi! Siamo arrivati troppo tardi! Candazia! Stai ancora con noi? Doria! Penso che tu debba restare qui stanotte! Nel caso succeda qualcosa a Candazia! Non posso! Ma fa bene! Lei fa bene che non vuole rimanere! È terribile questo posto! È a morte! Ci muore! Eh! Sicuramente vuoi bene a tua sorella ma ho troppa paura di Tommy! E fai bene! Tua sorella è molto debole! Potrebbe non farcela superare la notte! Devi rimanere qui! No si succhia anche lei! Ok no! L'hanno fatta rimanere! Tommy non saprà nemmeno che sei qui! Ok? Gli abbiamo barricato la finestra così non può neanche scappare dalla stanza! Ah! Quindi l'hanno fatto rientrare però! Questa sta impazzì! Sta un disastro eh! Ho bisogno di lui! Ha bisogno di farlo mangiare! Lei vuole! Lei vuole che lui mangi! Vedi? Lei dice ha bisogno di mangiare! Cioè l'unica cosa che capisce lei è che il figlio deve mangiare! Capito? Che follia! Eh! Si deve mangiare il cagnolino del vicino! Povero bambino eh! Quello solo bullizzato a scuola che ha il cagnolino e gli vuole bere! Poi arriva tuo figlio e se lo mangia! Eh! Cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo barricare anche la porta! Bravi! Bella idea! Chiudiamolo dentro! Muriamo la porta! Ce lo dimentichiamo così muore! No? Oh! Andava detto eh! Dai! Sarà... Pure che gli abbiamo barricato la porta! Quello sfonda tutto! Non credo che rimanga chiuso dentro così eh! E infatti dice anche lui! Non credo che lo trattengano! Allora adesso vediamo se sono riusciti a tenerlo dentro con quelle barricate! Oppure se anche stanotte riuscirà ad andare a fare i suoi banchetti! Eh! Questa è la camera di Doria che è rimasta in casa ma in un'altra stanza! Qui c'è la stanza di Candazia che ormai raga è morta ma è palese! Cioè l'abbiamo visto anche all'inizio del video essendo me è morta eh! E qui c'è lui! Che pure è arrabbiato stanotte eh! Perché dice... Ah! Non posso uscire! Blah! Allora adesso mi arrabbio! Esco uguale! Blah! E quindi ce la farà! Sono certo che riuscirai a trovare la maniera di uscire questo mostro schifoso! Tutto arcigno! Guardalo! Guarda il... Eh! Si gira la testa! Tanto sei brutto! Mamma mia! Non ci sarei stato neanche per un milione di euro in una casa così io eh! Ma neanche a pagarmi oro! Ma neanche! Eh! Guarda 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 guarda! Guarda come cerca di insiparsi nella finestra abbarricata sto maiale! Eh! Quella dorme! Certo che comunque hai paura di rimanere in casa ci sta! Ti dicono che devi rimanere lo stesso! Eh! Vuoi farlo va bene! Ma almeno stai sveglio! Guarda! Ma poi come fai a dormire? Questo qua sta sgabbiando! Sembra un nano delle miniere di Moria! Blah! Tutto così ubriaco! Con i picconi! Vallo a picchiare no? Cioè! O no! Dico bene! Secondo me dico bene! Cioè lo vai lo accoppi! Ci si riuscirà no? Ci si mette tutti insieme! Guarda guarda tutto sgabbiato! È incazzatissimo eh! Guarda! Fa la... Eh! Fai il pazzo eh! Cretino! Mo non esci! Ah ah! Non ci riesci eh! Ah ah! Devi succhiare eh! Non puoi stanotte! Devi rimanere all'asciutto! Non bevi stanotte! Briahone! Mm! È arrabbiato eh! Eh! Mi sa che qualcosa riuscirà a fare! Guarda 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 guarda! Tutto 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 sembra un caterpillar! Ha sfondato il muro! No eh! Mi è così arrabbiato! E voi non sentite nulla! Dormite lo stesso! Sono le 2 e 5... Mi ha sfondato! Ragà! Voi non lo vedete c'è la mia faccia ma ha sfondato tutto il muro ed è uscito! No! 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 Quanto è brutto! È brutto che si è! Fa il pazzo! No! Tommy di nuovo! No! E lei lo vuole! Lei è contenta! No! 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 È tutto sto casino per salvarla e non salvano una mazza! Mostravi a vedere che si fa anche il secondo piatto eh! No! 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 Guarda che schifo! No! La sta assorbendo completamente! Guarda sta sparendo lei! Se l'aveva finita! Se l'ha mangiata tutta! Porca miseria oh! Non mi dica e mo torna nella sua stanza come se niente fosse! Si è arrabbiato di più! No! Lei è morta! Lei è morta! Povera Candace! Ma è stata colpa sua perché lei aveva questo attaccamento! Era pur sempre... Era suo figlio! Ora non lo è più però non si è riuscita a staccare per tempo e... Tanto secondo me adesso è entrata all'altra e si mangia pure l'altra! Te lo dico io! Se mangia pure la guardalo! 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 Com'è bascola! È pascola! È bazzica! Per tutti i corridoi! Tanta mia! Te sei brutto! Puh! Puh! Ma va da loro! E si ciuccia a loro! Non se li hai mai ciucciati! Allora si vede non gli piacciono! Mi è pure arrabbiato! No! Sufondo la porta! Ma di chi? Questa... È della tizia! Ecco qua! Ecco qua! Ecco qua! Porca miseria! Metti qualcosa davanti alla porta! Metti qualcosa davanti alla porta! È finita! È finita! Muori! Muori eh! È finita! Andate ad aiutare! Vai con gli occhieri da sole! Vai! 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 Bro! Tommy è scappato! Andiamo! Tommy! No sta sfondando davvero! Poverina quella! Non voleva rimanere! L'hanno fatta rimanere loro! Dovreste essere arrestati! Mamma mia! Poi! Sta entrando! Vai! 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 No! Sta entrando! Vai qualcuno! Tiragli la sedia! Nella stanza di Doris! Vai! Vai! Corri di più però! Se l'è fatta? No secondo me sì! Mamma mia poverina! Poverina! No non me lo dire! Non me lo dire se l'è mangiata! Se l'è mangiata pure a lei! Tè! 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 Tutta! In un attimo! Ha fatto tipo le challenge di bere velocemente! Che non si devono fare una roba pericolosa! Pure quei devono... Così e... No! E poi pure il secondo round della mamma! Eh! Madonna! Ma è un disastro! Tutto si è mangiato stanotte! L'avete fatto solo che arrabbiare chiudendolo dentro! Solo che arrabbiare! Guarda! 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 La prende di nuovo! Guarda! Ma che pezzo di... Vi ci aiuto lei! Eh sì! Se l'è portata via come un pupazzo! È finita! Siete stati inutili! È incredibilmente inutili! È... Cioè se non ci andavate era me! Cioè è proprio inutile! Guarda! Se la sta a triare nel bosco! Ma va nella tana! Con i suoi simili! Eh! Il branco di Tommy! E... Om nom nom! Che buono! Eh! Troppo tardi! Andiamo nel bosco e cerchiamo! No! Andiamo a casa! Bruto pusillanime! Siete venuti qua! Non avete fatto niente! Avete fatto danno! Avete fatto! Andate a vedere! Magari la salvate un pochino! No? Sì! È tutta sciusciata! Non è rimasto più niente! Non è rimasto! Teni i dosi! Siamo andati nei boschi per cercare Tommy e Candazia! Ma non siamo riusciti a trovare! Quando mai? Quando mai? Non è servita nulla! Eh! Quando mai? Da quando abbiamo filmato abbiamo sentito delle lamentelle di persone vicine riguardo dei forti rumori notturni delle urla! Siamo in dubbio se Candazia sia ancora viva! Ma non è ancora viva! Se l'è mangiata! Era già quasi morta! Ci sono anche altri video riguardo questa squadra improbabile di H.A.P. Fantasmi! Fatemi sapere se volete vederne ancora! Ok? Per il momento però ci salutiamo e speriamo che la storia di questa orribile schifezza continui ancora perché voglio vedere se qualcuno riesce ad accopparlo finalmente! Per oggi Lion Out!